Cosa significa sacrificio per voi? Significa essere generosi, impegnati. La nostra tradizione qui è diversa dalle altre. Siamo una famiglia. Allora, Ray, la borsa di studi è annuale. Dai il massimo in campo e anche in classe, oppure non l'avrai più. È chiaro? Sì, signore. Non potete accontentarvi. Non c'è il posto garantito in squadra. È mio fratello, di nuovo. Feimar. È mamma. Ray, stamattina presto l'ho fatta inserire in un programma di riabilitazione. Sistemeremo Feimar in una casa famiglia. Se chiedessi a un membro della famiglia di occuparsene. Tranquillo. E tu comunque hai la scuola. Io sarò bene. Aspetti. Starà con me. Ho dovuto portare il mio fratellino a vivere con me qui al campus. Mamma se n'è andata. Siamo solo tu e io. Non dobbiamo fare tutto da sole. Perché mi sta aiutando? Tutti sono come una famiglia qui. Mio fratello e io abbiamo avuto un'infanzia difficile. La Clemson mi ha dato l'opportunità di cambiare la mia vita. I miei coach. I miei compagni. Anche questi uomini sono miei fratelli. 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 Anche questi uomini sono miei fratelli.